Trasmettiamo i programmi dell'accesso regionale a cura del Corico Monpiemonte. In Italia ogni anno si buttano nella spazzatura 145 kg di cibo per abitante. Nelle mense scolastiche un pasto su tre finisce nel cassonetto e nei supermercati lo spreco alimentare pesa per 18,8 kg all'anno ogni metro quadro. Basta questo per dimostrare quanto sia urgente trovare soluzioni adeguate e durature. Una possibile soluzione al problema è contenuta nel progetto per la semplificazione, l'efficientamento e l'accentramento della raccolta di eccedenze alimentari, Searea, di Kodakons e Fondazione Campagna Amica. Il progetto pilota prevede lo sviluppo di un'app e di un sito internet per permettere l'accentramento della domanda e dell'offerta di eccedenze alimentari nella rete dei mercati di Roma e Monte Rotondo. Come funzionerà il progetto? L'applicazione, completamente gratuita per gli utilizzatori e consultabile sia su PC che tramite smartphone, permette di gestire le rimanenze dei prodotti alimentari deperibili del mercato in favore delle associazioni di volontariato. In concreto, la piattaforma informatica prevede due livelli di iscrizione, uno per l'esercente e uno per la comunità, ovvero l'associazione benefica coinvolta. L'esercente è colui che attraverso l'app sul proprio smartphone fotografa i prodotti deperibili che non è riuscito a vendere e li mette a disposizione per il ritiro gratuito delle comunità iscritte, che ricevono una notifica push. Le comunità a questo punto possono accedere alla vetrina dei prodotti messi a loro disposizione dagli esercenti, prenotarli per il ritiro e così provvedere alla redistribuzione benefica. Spetta a Fondazione Campagna Amica, infine, il compito di valutare il rispetto dei requisiti di igiene e sicurezza, così da mettere a disposizione degli enti benefici coinvolti prodotti sani e perfettamente commestibili. Il meccanismo è insomma facile, immediato e a costo zero. Una volta entrato al regime il sistema descritto presso i mercati della città di Roma e del comune di Monte Rotondo, Fondazione Campagna Amica si occuperà di estendere lo strumento realizzato ai 1041 mercati operanti in tutta Italia. Ne deriveranno in dubbi vantaggi sia per le aziende agricole, che si alleggeriscono così di una serie di incombenze legate alla gestione dei rifiuti, sia per gli enti benefici coinvolti, che hanno la possibilità di ricevere a costo zero prodotti di alta qualità derivanti dal territorio di riferimento. Combattere gli sprechi alimentari significa per Fondazione Campagna Amica occuparsi di uno degli argomenti principali riguardanti il cibo oggi. Abbiamo deciso di farlo insieme a Codacons in un'ottica di alleanza con i cittadini e con i consumatori italiani, proprio per dire che il cibo è qualcosa di fondamentale per la nostra vita e va trattato con rispetto. Nei mercati di Campagna Amica troviamo il luogo giusto dove potersi occupare nella maniera giusta del cibo. Con il nostro decalogo proprio contro lo spreco degli alimenti chiediamo ai cittadini italiani di acquistare prodotti a chilometro zero, prodotti locali, prodotti freschi, di acquistare le giuste quantità, quelle che servono ad una famiglia in una settimana. Saper riutilizzare il cibo con creatività, gli agri-chef di Campagna Amica spesso lo insegnano attraverso ricette della tradizione appunto nei nostri mercati di Campagna Amica che sono sempre più frequentati. Ecco, un approccio al cibo sostenibile è questo che Fondazione Campagna Amica, Coldiretti e Codacons hanno voluto promuovere insieme. Il progetto per la semplificazione, l'efficientamento e l'accentramento della raccolta di eccedenze alimentari consente di ridurre, se non azzerare, la produzione di rifiuti organici derivante dagli invenduti ortofrutticoli della rete di mercati di Campagna Amica. Considerando di coinvolgere circa 1.945 aziende agricole e postulando un dato medio di invenduto di 30 kg ciascuna, parliamo di circa 58.000 kg di scarti che potrebbero essere recuperati. Cibo perfettamente commestibile e sano, che potrebbe alleviare la condizione di tanti soggetti in difficoltà. Dagli immigrati, che per diversi motivi sono stati esclusi dal sistema di accoglienza e vivono per strada, agli indigenti, ai senza fissa dimora. Cittadini come noi, che non possono certo permettersi di ignorare la questione dello spreco alimentare. Sentivo che piano piano stavo sprofondando giù, come se un buco nero mi stesse divorando. Non riconoscevo più me stessa, i miei confini, attraverso quei gesti semplici della quotidianità che mi avevano sempre accompagnata. Fare una carezza, mangiare un gelato, accorciarmi i capelli per sentirmi più femminile, ridere a crepapelle con un'amica. Ero entrata in una zona grigia dove tutto arrivava smorzato, parole, suoni, luci, colori. Ma certo che avevo paura. Mi sentivo sola dentro. Ogni giorno speravo che una mano si tendesse verso la mia per afferrarmela, che un'emozione anche minima scuotesse la mia apatia, che l'aroma del caffè al mattino inebriasse per un attimo i miei sensi abbandonati. Poi, non ricordo più che giorno fosse, ho composto un numero di telefono. Mi aveva colpita l'idea di un amico sconosciuto al telefono. Ho sentito una voce ferma, accogliente, che mi ascoltava, senza giudicarmi, senza voler risolvere i miei problemi, senza voler scavare nella mia vita. Senza fretta. Mi ascoltava con attenzione, con premura, e le sue parole accompagnavano i miei pensieri un po' confusi. Mi aiutavano a riflettere e a fare ordine. Le mie ossessioni, le mie incertezze, i miei fantasmi, la mia vergogna, prendevano forma attraverso la parola. Perché non è una colpa sentirsi così. Può capitare a chiunque, in qualsiasi momento. Allora ho sentito dentro di me qualcosa come una scossa e mi sono sentita un po' meno sola. C'era un amico sconosciuto, che si stava occupando di me. Una sequenza interminabile di suoni, la voce di uno sconosciuto, e improvvisamente mi ritrovo nella vita di una persona che sente il bisogno di parlare con me. Inizia un nuovo viaggio, ad accompagnarmi sarà la voce. Lei che esce è incerta, bassa quando stiamo male, squillante quando siamo felici. Invece il dolore dovrebbe essere urlato, spinto fuori, per levartelo di dosso. La felicità tenuta dentro, custodita, per non lasciarla scappare. Ma lei si può perdonare tutto. La voce, sempre lei, questa grande madre che avvolge a carezza, protegge e poi di colpo respinge, ferisce. Affascinante signora dalle mille sfumature, unisce vite che neppure si conoscono, ma nel preciso istante in cui si incontrano, si fondono, nasce una nuova storia, sempre e comunque. Sì, sentivo una certa inquietudine, come una spinta a guardare al di fuori di me. Nelle notti insonni poi mi sono trovata a parlare con questo strano disagio, una mancanza, un bisogno. di un contatto autentico con il profondo umano, miscuglio di contraddizioni e ambiguità, del non detto per paura, vergogna, solitudine, di un mondo sommerso che non tutti riescono a far emergere, e non può essere una colpa. Ecco, avvicinandomi a questa solitudine, cercando di accoglierla, ho sentito la fragilità umana, che è anche la mia, la tua, dell'altro. Insieme forse ne possiamo fare qualcosa, evitando la deriva. La voce, quella voce che arriva da chissà dove e che racchiude le infinite emozioni dell'animo umano, è la vita, il mondo di cui facciamo parte. Vale la pena esserci. Buongiorno a tutti, sono Don Carlo Chiomento, il responsabile del caso di accoglienza della Madonnina di Candiolo, che accoglie i malati e i parenti, i loro parenti, che frequentano l'Istituto di Candiolo. Sono venuto a parlarvi del volontariato, in modo particolare del volontariato alla Casa di Accoglienza. Prima di tutto faccio una premessa sul tema della banca del tempo. Voi sapete che non esiste nessuna banca che vi dà una percentuale di interessi elevata. Il tempo è una risorsa molto, molto preziosa. Il Padre Eterno ci dona tanto tempo. Abbiamo calcolato che ci sono 86.400 secondi al giorno. Bisogna spenderli bene ogni giorno sul nostro conto corrente nella banca del tempo. Dio ci versa questi 86.400 euro, che sono però secondi, non sono soldi. Non si possono accumulare. Bisogna spenderli. Ecco, il volontariato sta in questa spesa del tempo che viene donato dal Padre Eterno. Poi abbiamo volontari che donano intere giornate, altri una notte al mese, altri ancora qualche ora alla settimana. Il tempo donato è un tempo moltiplicato. Dio ci dà il centuplo di interesse. Non esiste una banca umana che doni il centuplo di interesse. Ebbene, il volontario dona tempo, gioia, riceve gioia, gratitudine, senso di vita. Dà uno e riceve tempo. Al momento abbiamo 170 volontari al caso di accoglienza. Dobbiamo arrivare a 250, anche in previsione del fatto che la alzeremo. Il volontario fa tre cose, praticamente. Essere di supporto pratico, assegna la camera, dà la bicicletta, informa, ascolta. Cerca di risolvere i piccoli e grandi problemi quotidiani. Poi deve collaborare perché l'accoglienza sia dignitosa e deve offrire un contatto, un calore umano a quanti frequentano la casa. Il volontario viene formato ad avere alcune caratteristiche. La discrezione, ossia la riservatezza sulle persone. La concretezza, fare gesti concreti, fatti, operosità. E poi costruire comunione, perché non si lavora mai da soli, si lavora sempre insieme con gli altri. Ultimamente abbiamo formato un gruppo di giovani dai 18 ai 35 anni che si è un gruppo di giovani che curerà soprattutto l'aspetto della presenza durante la notte, perché la casa è aperta. Ci sono i volontari anche alla notte, perché se succedono dei problemi il volontario ha un protocollo da seguire per risolvere questi problemi. Entro Natale conto di arrivare a 30 volontari e dentro il Natale dell'anno prossimo a 100 volontari giovani. Sono sicuro che ce la facciamo. I volontari sono divisi in vari gruppi. Attualmente ogni gruppo ha dei responsabili e attorno a questi responsabili si crea il gruppo e fanno determinati servizi, per esempio gli autisti, il gruppo economia, il gruppo giardinaggio, il gruppo delle pulizie, la manutenzione, eccetera. Queste cose che pratiche. I due gruppi più importanti sono quelli della reception di giorno e di notte, sono il gruppo dei tappari, il gruppo feste che organizza, che prepara delle cose, poi da esporre così, il gruppo che stira, il consiglio direttivo, il gruppo manutenzione, i tappari soprattutto, quelli che vanno a raccogliere tappi. Abbiamo anche dei volontari volontari che sono volontari a distanza. Cos'è il volontario a distanza? È uno che non può venire a fare il volontariato alla casa di accoglienza e allora fa in questo modo. Non so, le nonne o i nonni anziani che non sanno cosa fare pregano. La preghiera è sempre importante, quindi pregare per i malati, i loro parenti, eccetera. Altri nel volontariato fanno conoscere il progetto della casa di accoglienza. Altri ancora fanno determinate cose, preparano degli oggettini che noi poi portiamo in giro per far conoscere la casa di accoglienza. Adesso che alzeremo la casa abbiamo bisogno assolutamente di pensare ancora al discorso della manutenzione. Per esempio in questi anni abbiamo, grazie all'impegno di tanti, abbiamo acquistato lavatrici, rimesso posto gli impianti di riscaldamento, l'impianto di condizionamento, i mezzi di trasporto. Abbiamo fatto abbonamenti a servizi vari di manutenzione, servizi per la sicurezza. Abbiamo acquistato il cipato, acquistato materiale per la pulizia, eccetera, eccetera. Ultimamente è cambiata la legge, siamo arrivati al terzo settore e stiamo lavorando per andare ad agire come la legge prevede. La giornata per le vittime degli incidenti sul lavoro affonda le sue radici nella storia dell'Amin, fondata nel 1943. Il Comitato Esecutivo dell'epoca, nella riunione a Firenze del 26 novembre 1950, deliberò che il 19 marzo di ogni anno sarebbe stata celebrata in tutta Italia la giornata del mutilato del lavoro e che in tale occasione sarebbero stati consegnati i distintivi d'onore e i brevetti ai grandi invalidi del lavoro. La prima giornata nazionale del mutilato si tenne dunque a Roma il 19 marzo 1951 e per l'occasione il giorno precedente l'allora Presidente nazionale Amil Bartolomeo Pastore tenne un discorso di presentazione dell'iniziativa alla radio fatto di eccezionale rilevanza per l'epoca. Lo scopo era quello di ricordare all'opinione pubblica, alle istituzioni, alle forze politiche la necessità di concentrare la propria attenzione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e di garantire la giusta tutela alle vittime del lavoro e alle loro famiglie. Con direttive del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 aprile 1998 e poi del 7 marzo 2003 tale ricorrenza è stata istituzionalizzata su richiesta del Langmil e differita alla seconda domenica di ottobre di ogni anno. Alle manifestazioni organizzate dalle sedi associative in tutta Italia intervengono in gran numero sindaci, assessori, autorità locali e parlamentari ed esponenti del governo trattandosi di un tema che riguarda tutto il mondo del lavoro e i cittadini. Lo spirito della giornata costituisce un doveroso momento di riflessione sul sacrificio di quanti hanno perso la vita nello svolgimento della propria professione, nonché un'occasione per rivendicare la centralità dei diritti di ogni lavoratore. Questa manifestazione vuole inoltre sottolineare che uno Stato civile non può permettere che si crei una situazione discriminante tra i cittadini e anzi deve operare affinché qualsiasi barriera venga eliminata e l'handicap che esiste soprattutto in relazione alle difficoltà che un disabile incontra tenda a scomparire. La prevenzione Il fenomeno infortunistico nel nostro Paese continua purtroppo a presentare numeri preoccupanti e a costare ogni anno troppe vite umane. Dalla relazione annuale 2017 presentata dall'Ineil si rilevano sostanziali stabilità nel numero degli infortuni sul lavoro che si assestano sulle 641.000 unità in calo di appena lo 0,08% rispetto al 2016. situazione pressoché analoga sul fronte delle morti sul lavoro. Nel 2017 le denunce di incidenti mortali hanno fatto registrare un calo molto modesto di 30 casi 1.112 rispetto ai 1.142 del 2016. Per quanto riguarda infine le malattie professionali le denunce protocollate dall'Ineil nel 2017 sono state circa 58.000 in calo di circa 2.200 unità rispetto al 2016. E' quindi evidente che non siamo riusciti ancora ad assestare a un colpo drastico e definitivo per l'abbattimento di un fenomeno che pesa sulle nostre coscienze come sulla nostra economia. Nel solo 2017 gli infortuni sul lavoro hanno causato oltre 11 milioni di giornate di lavoro perdute. Occorre quindi un impegno che vada oltre la cronaca e che si snodi nel quotidiano la tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro deve dunque far parte delle priorità dell'agenda istituzionale con i seguenti obiettivi destinazione di adeguate risorse economiche per investimenti in salute e sicurezza dei lavoratori potenziamento dei corpi ispettivi rafforzamento delle azioni di formazione dei lavoratori e di tutti i soggetti preposti alla prevenzione costruzione di una vera cultura della sicurezza iniziando sin dai banchi della scuola Buongiorno io sono Giancarlo Gonella sono il presidente di Lega Co. Piemonte abbiamo deciso di dedicare questo spazio televisivo a parlare dei temi del nostro prossimo congresso Lega Co. Piemonte è un'associazione di imprese cooperative che hanno sede legale in Piemonte che raggruppano circa 540 imprese che a loro volta rappresentano circa 885 mila soci 22 mila addetti e 1 miliardo e 700 milioni di fatturato noi andiamo verso il nostro dodicesimo congresso sarà un congresso importante perché è un congresso che avviene in un periodo storico di grandi trasformazioni grandi trasformazioni che coinvolgono tutto il nostro paese tutta la nostra società e di conseguenza coinvolgono anche le nostre imprese cooperative quello che ci interesserà portare all'attenzione dei nostri soci ma anche all'attenzione dell'opinione pubblica è sostanzialmente un duplice aspetto da una parte il valore economico delle nostre imprese i risultati quei dati che ho appena ricordato i risultati che noi conseguiamo attraverso le nostre imprese sul terreno piemontese quindi diciamo il contributo che noi diamo in termini di lavoro in termini di PIL regionale in termini di società più coese di società con una maggiore opportunità di lavoro ma non ci interessa soltanto declinare la condizione diciamo economica del nostro comparto ci interessa anche sottolineare quei valori quei principi fondanti del movimento cooperativo che sono quelle alla base di più di cento anni di storia sono quei principi di solidarietà quei principi di democrazia una testa un voto quei principi di rispetto della legalità quei principi di coesione di partecipazione democratica che avviene attraverso la gestione imprenditoriale delle nostre imprese vogliamo quindi fare un percorso congressuale che coinvolgerà molte migliaia di persone attraverso tante riunioni attraverso tante assemblee di settore perché ovviamente un comparto come il nostro è presente un po' su tutti i terreni su tutti i comparti dell'economia piemontese dal sociale all'agricoltura al turismo al commercio ai servizi non c'è settore economico nel quale la cooperazione sia presente ma noi ci teniamo anche a sottolineare che vogliamo essere presenti in questi mercati con le nostre caratteristiche che sono caratteristiche diciamo diverse dall'arresto delle imprese private che diciamo compongono complessivamente il comparto dei soggetti economici noi siamo cooperatori siamo avveniamo da una storia che diciamo si intreccia con grandi tradizioni diciamo di vita democratica del nostro paese alla lega delle cooperative del Piemonte aderiscono anche circa 110 società di mutuo soccorso che sono dei riferimenti importanti per tanti piccoli centri piccoli e medi centri regionali del nostro territorio sia per le attività ricreative e culturali ma sono anche importanti per le attività di integrazione sanitaria quindi come contributo fattivo al welfare noi faremo questo congresso anche con una volontà che è quella di rilanciare una visione unitaria del movimento cooperativo noi pensiamo che sia necessario unire il movimento cooperativo noi attualmente abbiamo una situazione che è storica della presenza soprattutto di due grandi centrali cooperative noi pensiamo che il valore dell'unità sia un valore importante che lo dobbiamo perseguire perché quello che oggi ci consente di affrontare le sfide che abbiamo davanti è proprio una maggiore grado di unità sappiamo che la parola cooperazione viene anche abusata sappiamo che ci sono delle cooperative false che abusano di questo nome che ci costringono a una concorrenza sleale quindi anche da questo punto di vista noi pensiamo che un movimento unitario sia più in grado di rispondere a queste imprese non a caso noi abbiamo raccolto negli ultimi mesi alcune centinaia alcune decine di migliaia di firme circa centomila proprio per promuovere una legge di iniziativa popolare contro le false cooperative con questo spirito con questa volontà di aprirci al nuovo ma nello stesso tempo quello di mantenere anche un legame con le nostre tradizioni con il nostro passato ci apprestiamo a fare il nostro dodicesimo congresso un buongiorno ai telespettatori della RAI e un bentornato a tutti coloro che seguono i programmi dell'accesso la nostra associazione di imprese che si occupa di artigianato e di piccola industria sul territorio della città metropolitana parlerà in questa occasione del rapporto del connubio tra mondo della piccola impresa e mondo del design lo facciamo partendo da un importante appuntamento che si è concluso non da molto la mostra I love it design for heritage una mostra patrocinata dalla città di Torino e organizzata dalla nostra confederazione dell'artigianato all'interno dei locali del circolo del design in pieno centro una mostra che ha coinvolto una ventina di produttori di eccellenza del territorio con una chiave di lettura fortemente come dire focalizzata su quello che è il panorama della creatività torinese una creatività che si esprime a tutto tondo nel mondo della moda nel mondo dell'accessorio ma anche dell'arredamento dell'illuminazione la CNA di Torino è fortemente impegnata a partire dagli eventi di Torino 2008 World Design Capital nella promozione del design e del rapporto tra design e piccola impresa e ormai sono moltissime le case history che noi abbiamo creato sul territorio di collaborazioni virtuose tra creativi e piccoli produttori siamo sempre convinti e continuiamo ad esserlo sempre di più perché i risultati raggiunti ci danno come dire sempre ulteriori conferme che il design può diventare una leva competitiva molto importante per il tessuto produttivo del nostro territorio un tessuto produttivo fatto di tantissime piccole realtà che hanno lavorato per molto tempo all'interno dell'indotto di alcuni settori molto specifici che possono essere l'automotive piuttosto che il mondo della moda dove nel corso dei decenni si sono verificati i processi di destrutturazione delle aziende molti grandi gruppi hanno lasciato il territorio le piccole aziende hanno però un know-how una capacità un saper fare di grande eccellenza che può essere speso in un contesto ben più ampio di quello territoriale mi riferisco certamente al contesto italiano ma anche a quello internazionale ma per rendere appetibili sul mercato i prodotti delle piccole imprese è necessario l'apporto del design il design è inteso come progetto come capacità di dare risposte ai problemi questo tipo di approccio per esempio all'interno della mostra Ilovit è quello che è stato come dire più volte sottolineato dal designer italo-iraccheno Hussein Arva che all'interno della mostra Ilovit Design for Heritage ha portato un capolavoro del design internazionale la poltrona Joe poltrona Joe 1970 una delle icone del design italiano nel mondo pensate che è esposta al MoMA di New York assieme ad altri oggetti simbolo come una macchina da scrivere dell'Olivetti come la penna Astil dell'Aurora bene questa poltrona sulla quale esistono ancora chiaramente dei diritti è la prima volta che viene sottoposta ad un restyling un restyling autorizzato da chi questa poltrona la disegnò nel 1970 ma soprattutto da Poltronova Firenze questa azienda leader nazionale protagonista delle grandi sedute di design realizzate in Italia Joe Bloom questo è il nome della poltrona Joe rivisitata poltrona Joe ricordate il guanto da baseball del grande Joe Di Maggio famoso anche per essere stato il marito di Marilyn Moore ma certamente uno dei più famosi italo-americani nel mondo nella storia uno dei grandi atleti che hanno reso grande il nome anche in qualche modo dell'Italia nel mondo ecco questa poltrona Joe questo guantone da baseball che diventa seduta proposto tradizionalmente nei colori che sono quelli tipici dei guantoni da baseball quindi le nuance del marrone è stata invece rivisitata con una vera e propria esplosione di colore ecco Joe Bloom è una poltrona che ha realizzata tra l'altro in 24 pezzi serie limitata è stata esposta dal 10 di ottobre all'8 di dicembre al Circo del Design di Torino e ha fatto parlare molto di sé ne hanno parlato molto i giornali ne hanno parlato i social network ma questa poltrona vuole essere per tutti i produttori del nostro territorio una iniezione di ottimismo di fiducia nel fatto che le mani la testa di un designer quando incontrano la capacità produttiva di un'azienda sia essa grande medio piccola fanno la differenza e fanno grande il made in Italy quindi viva il design e viva la manufattura italiana ce ne ha impegnata da sempre a sostenerla i programmi di Rai3 riprendono ora a diffusione nazionale buona visione di un'azienda di un'azienda di un'azienda